Buonasera amici di Media24, Giuseppe Palomba al TGM Sport FWG. Apriamo subito l'ampia puntata odierna, il notiziario con i dilettanti. Sono state infatti definite le date dei recuperi delle partite del 4 e del 5 novembre. Il Comitato regionale della Lega Nazionale di Lettanti del Friuli Venezia Giulia ha definito, attraverso un comunicato ufficiale, le date dei recuperi delle partite non disputate sabato 4 e domenica 5 novembre. La sospensione temporanea di tutti i campionati regionali, dovuta alle conseguenze della situazione meteorologica in regione, alla necessità di preservare i manti erbosi, alla difficoltà nel reperire ambulanze, che, data l'allerta media e erano impegnate su altri fronti, ha consigliato di rinviare l'intera giornata di campionato. Come segue? A meno di accordi tra le parti, diversi da quanto pubblicato, la decima di andata di eccellenza andrà comunque in scena mercoledì 29 novembre, mentre il resto dei recuperi nelle altre categorie è previsto per gennaio. Infine, i campionati giovanili recupereranno le partite a dicembre. Voltiamo pagina adesso e parliamo di volley. La Tinet Prata Pordenone, davanti a 1100 cuori gialloblu, batte anche la Versa. È monumentale la squadra di coach Bonifanti, che firma una strepitosa cinquina, in campionato ovviamente, regolando con il punteggio di 3-0, che non ammette discussioni, a uno squadrone come la Versa. Vediamo il servizio di Rosario Padovano. Un fine settimana scoppiettante nel mondo della pallavolo locale. Tanto per cominciare, la Tinet Prata ha battuto per 3-0 la Versa, al palacrisafulli di Pordenone, al termine di una partita molto ben giocata. In Serie A2, dunque, il Prata è secondo. Sabato sera alle 20.30 c'è la sfida alla capolista Grotazzolina in trasferta. In Serie A3, Vittorio in rimonta della pallavolo motta di Livenza, per 3-1 sul campo del Salso Maggiore Terme. In classifica risale qualche posizione la squadra Leonina. Per quanto riguarda la Serie B, brutto tonfo del futuro sul campo del Monselice. Sabato 3-0 la sconfitta, ma rimedia a tutto l'MT Ecoservice Chions Fiume, che ha battuto con il risultato di 3-0 l'Ezzelina Carinatese. La CdA Talmassons, in Serie A2 femminile, ha battuto l'Alta Fratte Padova, matricola di Santa Giustina in colle, per 3-0 e quindi guadagna qualche posizione. In Serie B, poi, tornando sempre nel maschile, da segnalare le sconfitte di Povegliano in casa, ed è la prima, e la vittoria del volley Treviso per 3-2 a Massanzago. Primo urrà in trasferta, il Cortina Express Imoco di San Dona di Piave, in B1 femminile, ha perso invece per 3-0 a Peschiera del Garda. Un bel 3-0, una partita che penso ti abbia dato una grande soddisfazione, grande qualità nel campo, ma quasi una partita da play-off per la tensione che c'era. Un bel test anche da quel lato. Sì, siamo stati molto bravi perché, soprattutto il secondo set, abbiamo recuperato un grosso svantaggio, grazie a Baldazzi che è entrato, ha fatto una bellissima serie in battuta. È quello che ci aspettavamo, loro hanno giocato una buona gara fino alla fine del secondo set, e poi il terzo si sono un po' disuniti. È una gara tesa, sicuro, bisogna essere bravi a non farsi lasciare andare in provocazioni e guardare sempre la propria parte del campo, perché comunque avremo modo di affrontare avversari sempre più tosti. Però sono molto contento perché è una vittoria che, dopo il Tour de Force di questa settimana, e un po' i problemi di salute che abbiamo avuto per qualche elemento, ci voleva proprio. Ecco, adesso a proposito di Tour de Force e avversari importanti, ci aspetta una trasferta in quel di Grotta Zolina, quasi un remake dell'anno dell'A3. Con loro è sempre un piacere giocare perché sono una gran bella squadra, abbiamo una settimana di tempo per recuperare energie, preparare la partita, e andremo giù sereni per fare una buona gara. Apriamo adesso l'ampia finestra dedicata al basket cittadino. La Orm Pordenone riscatta la sconfitta di Montebelluna, torna a successo in un palla Crisafulli, come sempre ragazzi, gremito. Ci è venuto a trovare il nostro esperto di basket Stefano Bascoriotti. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i tre. Ci racconti un po' tu il resoconto della partita, cos'è successo al forum? Sì, ti ringrazio per questo spazio che dedichiamo inizialmente, se mi permettete, l'hai già citato tu giustamente, a questa atmosfera che si respira finalmente al palacrisafulli, questi fedelissimi tifosi, ma non solo. Io ho visto anche facce nuove al Palasport, facce che abbiamo magari rivisto anni fa i tempi della palacanestro, quella importante, quindi questo è di buon uspicio per il proseguo della stagione, indipendentemente dal risultato, perché sappiamo che la forma di questo campionato è abbastanza complessa. Dopo un lungo cammino che terminerà più o meno verso giugno, potremmo capire se questa squadra può ambire o fare il salto di qualità. Intanto però si mantiene a ridosso delle prime. Certo, certo. Tu hai citato bene, caro collega, il fatto che questa sconfitta di Montebelluna è arrivata inaspettata. In effetti ho anche amici corrispondenti a Montebelluna che seguono il Montebelluna Basket, non si aspettavano una sconfitta da parte del Pordenone, anzi erano preparati a una vittoria del Pordenone, ma non sono, ma torno a ribadire esaltato il seguito di tifosi che il Pordenone si porta molto spesso in queste trasferte. Tornando alla partita di domenica, devo dire che all'inizio è stato piuttosto precario per quanto riguarda la squadra di casa, e perché il Murano si è dimostrato molto frizzante, molto pimpante, con degli schemi molto piacevoli. Invece Pordenone faceva fatica a carburare, cosa che non è avvenuta per fortuna nel terzo e quarto quarto, dove la squadra ha assunto quel volto che gli è caratteristico e per il quale l'entusiasmo del pubblico appunto dà una mano a far sì che questa squadra possa vincere le partite, anche con questo contributo, ma con questo gioco soprattutto. Il fatto di tiri esterni, avevamo visto un Farina in ottima forma, ormai la palacanestro, sapete, la maggior parte delle volte si svolge all'esterno della linea perimetrale tre punti, molte azioni hanno queste percentuali, chi ha una buona percentuale da tre vince la partita, senza per quello negare il lavoro sporco che fanno i due pivot, che Mozzi e Mandici, che praticamente chiudono le difese per aprire poi successivamente gli esterni per un buon tiro, che a Montabelluno non è avvenuto purtroppo, però è uno spettacolo e credo che possa anche continuare questa serie positiva, in attesa poi di affrontare, penso alla capolista nei prossimi turni, in effetti, devo dire, parlando anche con Davide Gonzo a termine della partita, è soddisfatto anche lui, sia della prestazione, ma anche di ciò che si sta creando all'interno di questo ambiente. Sì, infatti io ti ringrazio anche per le immagini che state vedendo, perché le hai fornite tu, le hai preparate tu, ti faccio i complimenti per questo, e ci tengo anche a ringraziare l'ufficio stampa della società Biancorossa, che ci ha mandato, che ci manda sempre ogni settimana i contenuti, vi lascio alle interviste dei protagonisti, grazie a voi, buon proseguimento di serata, grazie a voi. Marco Cagnoni, da poco è terminata la partita, Casalinga in casa appunto con Murano, abbiamo vinto con il punteggio di 79 a 62, una partita giocata splendidamente, soprattutto nel secondo tempo. Uno dei protagonisti, Marco Cagnoni, che oggi è tornato a segnare le sue grandi triple, Marco, com'è andata? Abbiamo fatto un po' di fatica nel primo tempo, abbiamo un po' dovuto registrare la loro difesa tra i due, con la quale eravamo in difficoltà, più per demeriti nostri obiettivamente, non ci stavamo capendo molto, però poi all'intervallo abbiamo aggiustato due o tre cose, nel terzo tempo siamo entrati anche con tutta altra faccia, a livello difensivo siamo stati più aggressivi, abbiamo corso di più il campo, abbiamo trovato ottimi tiri aperti, soprattutto anche con Farina, che ha fatto veramente una grandissima partita, e nel terzo quarto abbiamo messo lo zampino quello giusto. Sì, beh, nel terzo periodo abbiamo fatto un 8-0 di parziale in un minuto, che in qualche modo veramente ha svoltato. Un sabato prossimo, sarà il prossimo impegno, andremo nuovamente a Bergamo, incontreremo l'altra formazione bergamasca, la blu-orobica, che oggettivamente è una squadra che inizialmente si pensava potessero alzare, ma in realtà non lui assolutamente, sta facendo molto bene, e in cima alla classifica, che partita sarà? Sarà sicuramente una partita molto difficile, perché loro sono ragazzi tutti giovani, hanno ottima qualità, sono molto intensi, e come dimostra la classifica appunto, non bisogna assolutamente sottovalutarli, perché sono lì in cima, insieme a noi, quindi sarà sicuramente una bellissima partita. Stasera tra l'altro loro hanno vinto a Oderzo, quindi dovremo stare molto attenti, e per provare a portare a casa il risultato, dovremo dare il 110%. Grazie Stefano, ci vediamo martedì prossimo per il consueto appuntamento sulla Palla Spicchi. Parliamo invece adesso di motori. Davide Turchett, pilota 37enne di Porcia, sulla pista di Cremona, si è laureato campione italiano di motocross nella categoria MX1 Expert 2023, il campionato per piloti amatori di motocross. Davide Turchetti, in forza al motoclub Albatross, nella vita di tutti i giorni lavora in fabbrica come operaio, è appassionato di motocross, sin da quando aveva 4 anni, ha disputato la sua prima gara a soli 6 anni. Chiudiamo il notiziario con il tiro con l'arco, con l'oro di Paola Natale, della compagnia Arcieri di Cormons. Guardiamo il servizio realizzato da Marco Bisiac. Grande risultato per il tiro con l'arco regionale, e nello specifico la compagnia Arcieri Cormons. La forte portacolori del sodalizio isontino Paola Natale ha infatti conquistato la medaglia d'oro nella prima tappa delle Indoor World Series di tiro con l'arco, che si è svolta a Lausanna in Svizzera. Natale ha avuto la meglio nell'ultimo atto della manifestazione nella specialità dell'arco compound su un'altra italiana, Marcella Tonioli, in una finale tiratissima che si è conclusa in parità a 143 punti e poi si è risolta in favore dell'atleta della compagnia Arcieri Cormons agli shoot-off. Prima della sfida tutta tricolore, Paola Natale aveva eliminato nell'ordine la croata Mlinaric, sconfitta a 146 a 140, la svizzera Dielen, superata a 144 a 140, e l'altra croata Sargent Buden, in uno scontro molto equilibrato, risoltosi per 146 a 144 per l'Azzurra. Grande dunque la gioia per Paola Natale, ma anche la soddisfazione per la compagnia Arcieri Cormons e il suo presidente Claudio Canesin, che da lisontino ha fatto il tifo, come tutta la famiglia della società cormonese, per l'atleta impegnata a Lausanna. In Svizzera, per l'Italia, sono state molto positive anche le prove dell'Under 21 Lorenzo Gubbini, oro dopo il successo in un'altra finale tutta italiana con Francesco Sterza, sempre nell'arco compound, e nell'arco olimpico di Alessandro Paoli, bronzo dopo aver battuto David Pasqualucci nella finalina per il terzo posto. Anche per questa sera è tutto, gentili telespettatori di Media24 e come sempre Giuseppe Palomba dal TGM Sport vi ringrazia per essere stati con noi. Però non cambiate canale, perché a seguire ci sarà nei consueti speciali di Media24 un approfondimento realizzato dal nostro direttore Alberto Rossi con il suo illustre ospite Nicola Conficoni. Noi ci vediamo comunque domani sera alle 19.30 dopo il TG di Alessio Conforti. Buona serata.